ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture vi ringrazio sempre per il vostro affetto e saluto veramente con tanto tanto calore e tanto tanto affetto anche da parte mia tutti quanti quelli che mi seguono se chi mi segue da tanto tempo e anche quelli che mi ascoltano oggi per la prima volta quindi vi invito a iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte oggi un altro contenuto molto 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 importante che viene in nostro aiuto proprio dalle pleadi dai nostri fratelli e sorelle galattici pleiadiani ed è un altro comando chi segue questo canale spero abbia visto l'altro video se no comunque ve lo metto sotto in descrizione il link diretto per vedere gli altri comandi sempre dati a noi da diciamo dalla federazione galattica della luce dai nostri pleiadiani dove ci sono appunto altri codici per esempio il 1221 il 771 insomma tutti quanti codici che ci possono aiutare e vengono proprio a noi dalle stelle vengono a noi dal cielo questo anche molto importante l'ho testato anche io personalmente ma diciamo si trovano comunque delle testimonianze non in italiano ovviamente ma ci sono di persone che hanno veramente usato questo comando che ci viene dai pleiadiani e hanno ottenuto veramente degli ottimi risultati questo comando è un comando che i pleiadiani chiedono proprio di condividere con quante più persone possibili per testare e vedere la sua efficacia proprio su di noi quindi è un comando che al contrario di altri va recitato solo nella mente ovviamente io ve lo leggo a voce perché dovete sentire la pronuncia ma va fatto nella mente vi invito ad ascoltare tutto il video a capire come si fa un comando un decreto un codice sacro perché anche dopo tanti mesi leggo le stesse domande se bisogna fare così o cos'ha quando io in realtà già l'ho detto nel video quindi chi non ascolta probabilmente non so quanti risultati poi possa avere positivi in quello che sta lì a cioè guarda solo diciamo quello che deve fare e che cosa ma non il come e questo è sbagliato questo già è un presupposto insomma che non fa funzionare che non farà funzionare l'attività energetica che andiamo a muovere quindi non va bene questa cosa quindi ascoltare ascoltare se no non lo ascoltate proprio quindi questo è molto importante la l'attitudine che uno mette è tiratela fuori questa attitudine di comprensione e di voler andare veramente in fondo perché avete capito e siete tra quelli che hanno capito che si sta veramente muovendo qualcosa che non sono chiacchiere queste che c'è veramente un cambiamento ascensionale planetario importantissimo in atto e questo ci viene anche in aiuto proprio per la nostra vita questo grande regalo ancora una volta che ci danno i pleiadiani allora spiego questo comando questo è un comando per la guarigione cronica del dolore quindi attenzione non è un qualcosa che fa passare le malattie anche perché ci sono i medici è un qualcosa che aiuta a ridurre il dolore specialmente quello cronico cioè quello che tende a ripetersi esempio sempre mal di schiena sempre mal di testa sempre non so mal di stomaco lombari quel piede lì mi fa male ho sempre questo dito che sempre così insomma questo tipo di cose che tendono un po ripetersi quelli che sono magari anche i nostri punti deboli in questa vita va bene nel nostro corpo fisico in questo involucro che ci siamo scelti in questa vita quindi andiamo ad agire vanno ad agire proprio sul discorso del cervello quindi del sistema nervoso centrale dove sono recepite le informazioni no che dà quel tipo di dolore che va al cervello al sistema nervoso centrale e rimanda alla sensazione di dolore che tu senti che tu percepisci quindi questo è un alleviare proprio il discorso dolore va bene l'importante è sempre molto crederci le testimonianze che ci sono delle persone che l'hanno fatto dicono che l'unica volta che non ha funzionato è quando l'ha fatto in modo superficiale cioè quando non ci credeva più di tanto dice sì va beh lo ripeto non è così che funziona non funzionano così le cose l'ho appena detto poco fa ma lo dico spesso nei miei video chi mi segue da tanto e vi ringrazio lo sa questa cosa vi leggo ancora un po di appunti per farvi capire meglio che cosa fa questo comando che si chiama protocollo comando pb stardust e vi dico perché stardust è in realtà la polvere di stelle ma noi lo dobbiamo recitare in inglese anche se siamo italiani l'unica cosa che possiamo cambiare è la parola comment che sarebbe comando quindi diciamo comando pb stardust con l'accento sulla non stardust stardust e veramente ci sono un sacco di feedback su questo dono bellissimo dei pleiadiani e appunto ci aiuta a ridurre il dolore cronico sofferto proprio dalle popolazioni come noi cioè quelle di superficie ci sono veramente tante tante testimonianze che non sto qui a leggerle tutte perché dobbiamo fare anche dopo facciamo la canalizzazione dei nostri fratelli galattici vediamo il messaggio per te di oggi ci associo anche una carta degli energy terots per vedere anche se c'è qualche chakra particolare che devi sbloccare quindi seguimi fino alla fine e poi vediamo che cosa ti esce fuori a te allora ci chiedono proprio i pleiadiani ok un incoraggiamento e a diffondere il più possibile questo questo diciamo comando questo decreto comando si può usare anche dopo ogni meditazione personale ok quindi prima meditiamo e poi facciamo il comando quindi questa cosa è molto molto importante allora andiamo avanti c'è proprio un feedback che i pleiadiani ci chiedono su questa cosa cioè vogliono proprio cercare una risposta no vogliono capire e vedere proprio quanto è l'effetto che già è stato visto da chi l'ha provato prima di noi che è proprio fantastico va bene quindi però l'importante dicono sempre che bisogna molto crederci ricordo ci sono stati veramente dei risultati sorprendenti molto positivi va bene allora adesso procediamo finisco solamente col dirvi che le forze della luce ultimamente da diversi anni per chi riesce a percepirli anche da anni indietro ma chi più anche ultimamente si è accorto si stanno proprio rivelando sotto forma proprio di visione a tutti coloro che sono proprio aperti alla guarigione quindi dipende anche la tua apertura nel ricevere poi una guarigione tutto questo che sta succedendo queste rivelazioni sotto forma di visione da parte delle forze della luce fa parte proprio di un ancoraggio cioè l'ancoraggio collettivo lavorando ovviamente tutti in unità in comunione con le molteplici forze di luce che sono proprio qui per assistere sulla liberazione planetaria la cosa con cui stiamo proprio lavorando in questo momento in tantissimi che sono proprio anche le meditazioni di massa cose che ripeto sia sul mio sito web il canale youtube chi mi segue lo sa quindi mi raccomando questo è un lavoro di squadra le forze della luce e noi terrestri proprio per la liberazione planetaria e tutto questo anche il comando che sto per dirvi serve proprio per migliorare le nostre condizioni perché c'è bisogno di una popolazione sana di una popolazione energeticamente elevata pulita migliore proprio per riuscire va bene a eliminare tutto il male che c'è proprio tutta la sofferenza tutto il dolore i nostri fratelli galattici e sorelle galattiche non vogliono che noi soffriamo perché sanno benissimo che la sofferenza fisica terrestre limita poi anche la guarigione spirituale un corpo che non è sano non può diciamo andare verso l'ascensione in modo sereno in modo completo come potrebbe fare un altro corpo sano quindi è importante proprio la salute molto importante ricordo a tutti che ovviamente non andando alla radice del problema è semplicemente una cosa che va a cominciare e che poi finisce quindi se il giorno dopo avete di nuovo lo stesso dolore rifate di nuovo il comando questo comando può essere fatto sempre non c'è problema quanti giorni a che ora non importa nella vostra mente potete ripeterlo tre volte ma anche più volte diciamo che tre volte è la base poi ogni volta che sentite sempre questi fastidi questi dolori lo potete ripetere per alleviare il dolore ma quello cronico ok magari potrebbe sorgere di nuovo il giorno dopo quindi poi questo ricordatevi che non va a sostituire la medicina convenzionale la medicina tradizionale quella la dovete consultare in caso di necessità di bisogno questo qui è un aiuto proprio per alleviare i dolori che sappiamo bene chi ce l'ha quanto sono fastidiosi i dolori danno fastidio va bene ci portano anche lontano da quello che è la nostra strada la nostra ascensione la nostra energia perché non possiamo lavorare bene a livello spirituale ed energetico se sentiamo del dolore da qualche parte quindi provatelo io vi invito a provarlo perché ha avuto effetti straordinari in tante persone ve lo posso confermare anche io personalmente di quando avevo qualche volta qualche disturbo qualche doloretto che ha funzionato veramente allora come sempre è richiesto diciamo un bel respiro due tre bei respiri prima di iniziare ma se proprio vi sentite in una condizione urgente non importa l'importante che pronunciate bene questo comando e va pronunciato nella mente ora io ve lo leggo tre volte come andrebbe pronunciato nella mente non c'è bisogno di dirlo ad alta voce va bene anche mentalmente facciamo un bel respiro comando pb stardust comando pb stardust e poi lasciate fare ok comando pb stardust con l'accento sulla non stardust stardust polvere di stelle fate questo comando questo è un grandissimo regalo per cui dire grazie veramente ai nostri fratelli e sorelle della luce proprio le nostre famiglie galattiche che adesso andiamo anche a chiamare e a interpretare perché è veramente un grandissimo regalo e ci offrono proprio un sollievo dal dolore allora adesso vediamo con le nostre carte dell'alleanza galattica della bravissima che è francese canalizzatrice scrittrice da tantissimi anni ogni tanto riporto anche qualche suo scritto è allora quando un metto testimoni e andiamo con le due letture la prima e la seconda quindi scegli solo la prima che metterò a sinistra la seconda la metto a destra quindi o la prima o la la seconda la seconda la seconda le galattiche della luce primo messaggio secondo messaggio adesso faccio un'altra cosa prendiamo anche i nostri energy tarot e vediamo quale chakra necessita di attenzione o quali non è detto che sia uno solo è anzi più delle volte non è mai uno solo comunque fortunato chi ce n'ha uno solo a cui porre attenzione vediamo per chi sceglie la lettura numero uno quali chakra necessitano di attenzione e li vediamo dopo è prima vediamo il messaggio dei fratelli galattici la lettura 2 quale chakra eccolo qua allora la 1 e la 2 eccoli qua leggiamo prima allora la 1 chi ha scelto la 1 leggiamo il nostro messaggio qual è il messaggio della tua famiglia galattica qual è proprio in questo momento specialmente in questo video dove abbiamo parlato del comando pb stardust per eliminare proprio il dolore cronico vediamo messaggio numero 34 attualmente avete la possibilità di cancellare i vostri karma individuali per avanzare verso una strada più vasta più luminosa dove i problemi che oggi vi preoccupano non ci sono più perché superati questo è un codice che già da solo lavora quindi vi invito o a fare lo screenshot o non lo so vedete voi come io l'appoggio qui dopo e vedete un po perché è un codice galattico un codice stellare che lavora anche solo già col terzo occhio e solo a guardarlo qua molto bene vi dicono proprio che a maggior ragione tu che hai scelto la 1 in questo momento è una grande possibilità di cancellare il karma ma ce l'abbiamo tutti lo ricordo per correttezza tutto il karma del pianeta ha un grandissimo aiuto in questo momento va bene anche dal maestro san germen ed anche altri maestri ascesi che ci aiutano veramente nella risoluzione del karma anche quello più vecchio insieme all'arcangelo raziel ma in particolar modo qua c'è un grande aiuto proprio che hai scelto la 1 per cancellare questo karma individuale in modo che possiamo andare verso questa famosa strada più bella che tutti desideriamo è si chiama la via aperta e dice non gettate al vento quest'occasione che vi è offerta impantanandovi in interrogativi senza fine vivete lasciate che la vita vi metta di fronte a ciò che ora potete comprendere superare e finalmente amare in quanto è parte di voi non lottate contro nulla ma agite in funzione del vostro cuore invece che delle vostre paure siate attenti al vostro funzionamento per liberarvi a poco a poco degli ostacoli creati dalle vostre paure queste paure spesso non sono vostre ma appartengono alle vostre famiglie alla vostra cultura e alla vostra educazione tutto questo non ha più senso se volete aprirvi alla nuova vita che si offre a voi quindi via le paure togliamo questo karma che viene molto spesso anche da un discorso familiare molte volte no si chiama la via aperta questa cosa che ti è venuta guarda bene il codice galattico che è lì sul tavolo per te va bene e cerca di immedesimarti nei tuoi momenti di meditazione e di connessione proprio anche magari quando chiami proprio la tua famiglia galattica no quindi attenzione dice di stare attenti liberare liberarci a poco a poco di questi ostacoli che sono creati puramente su una questione tridimensionale la paura dicono loro e la paura è una creazione della terza dimensione in realtà manco quella esisterebbe così come non esiste il tempo ok perché non avrà più senso quando tutto sarà liberato quando tutto sarà migliore non avrà più senso avere paura perché sarà debellata non esisterà più questo è il messaggio per te adesso vediamo il il karma il karma i chakra sono due il tre e il quattro colore giallo e colore verde ok questi sono i chakra su cui dovresti lavorare quindi chakra del plesso solare ricorda tutti che è nello stomaco in mezzo proprio al buco dello stomaco e il quarto chakra è il cuore dove c'è il tuo cuore quindi all'altezza diciamo tra i seni ok in mezzo quindi sono anche vicini tra l'altro uno dopo l'altro a seconda se partiamo dall'alto se partiamo dal basso quindi terzo e quarto chakra quindi qui dobbiamo rafforzare il nostro potere terzo chakra la nostra volontà la nostra affermazione utile in questo caso il colore giallo che è noto anche esserci qua nel codice galattico per te vedo questo giallo quindi già c'è uscito insomma una cosa che forse più il terzo che il quarto comunque sia prendilo così vedete anche i colori i colori di questa carta che ci sono proprio giallo e verde quindi facci caso insomma questa cosa prendila come un consiglio che non ti viene mai per caso terzo chakra volontà potere affermazione colore giallo quarto chakra ovviamente amore sentimenti guarire le ferite anche quelle del passato il colore associato al quarto chakra non è solo il verde ma anche il rosa va bene utili anche delle pietre di questi colori per esempio per il giallo possiamo avere un ottimo quarzo citrino per il verde possiamo avere anche un'avventurina per esempio una malachite ma più l'avventurina una calcite verde per esempio anche oppure per quanto riguarda il rosa il quarzo rosa non lo batte nessuno sul quarto chakra va bene non è detto vedete voi le vostre vibrazioni e sensazioni se avete questi tipi di problemi o se vi siete accorti di avere questi problemi magari vi fa male proprio tra questi due 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 punti no magari c'è chi sente mal di stomaco collegandoci al discorso di questo video il pb stardust il comando magari perché qualcuno che sta ascoltando qua ha veramente dei dolori relativi a quella zona quindi la zona del terzo chakra dello stomaco e la zona del quarto chakra livello dell'altezza del cuore quindi può darsi anche questo perché non è mai un caso qui è quello che accade queste erano le informazioni per te di oggi e ricordati bene il codice comando pb stardust come fosse una pasticchetta magica va bene che però ripeto non va alla radice del problema agisce sul nostro sistema nervoso centrale per placare quella sensazione di dolore che ci rimanda indietro il cervello ok quindi per la lettura 1 erano queste le carte le tolgo spero che hai fatto qualche screenshot specialmente di questo è allora andiamo avanti chi ha scelto la seconda lettura vediamo qual è il messaggio dei nostri fratelli galattici per te e qual è il codice intanto abbiamo il numero 2 0 2 vedo molto azzurro e viola qui sapere che la qualità del vostro ascolto il vostro sorriso e la tenerezza possono rendere più facile la strada delle persone che incontrate è molto più importante di quanto crediate quindi qui c'è un qualcosa con gli altri ecco qua per te guardate quanti cubi di metatron ci sono qua dentro questo è un codice spettacolare bellissimo già i colori che già sono quando vedo questi già allora il numero 2 sorriso è il momento ideale per porvi queste domande vi capita di sorridere in strada senza una ragione precisa vi guardate allo specchio con tenerezza e sorridendo sorridete spesso alle persone che incontrate durante il giorno che le conosciate o meno se non è così è urgente sorridere alla vita a coloro che vi circondano e a voi stessi per rendere il percorso infinitamente più sereno e più leggero forse all'inizio avrete l'impressione di obbligarvi a sorridere tuttavia col passare dei giorni percepirete un cambiamento dentro di voi e la magia della trasformazione farà sì che pian piano vi alleviate sino alla gioia ma non è stupenda questa cosa quindi qua sorridere 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 non ci interessa chi è chi non è se ci prendono per matti non ci interessa va bene sorridete sapere anche di aver fatto solo un gesto gentile a qualcuno assolutamente gratis e l'hai fatto star bene perché magari nessuno gli sorride questa è per te una grande vittoria è un buon karma che ti stai mettendo da parte è una pulizia energetica è un qualcosa che ti fa benissimo questa quindi fa bene prima a te in realtà e poi all'altra persona e dice qua non ti preoccupare se all'inizio ti sembra un po forzato cioè se non ce la fai tanto a farti venire questo sorriso non ti preoccupare ok però col passare dei giorni questa cosa ci dicono che cambierà e poi sentirete veramente questa magia della trasformazione va bene bellissima questa cosa questo è il codice che può aiutarti in meditazione in contemplazione calmante eccetera eccetera e vediamo anche i chakra per te quali sono quelli su cui lavorare o che adesso necessitano di attenzione ecco qua abbiamo tutto il sistema dall'uno al settimo chiaramente non sono solo sette chakra sono ben molti di più questi sono quelli più principali diciamo nel nostro corpo è qui abbiamo dal primo al settimo chakra da fare proprio un lavoro ok da riequilibrare completamente il nostro sistema dei chakra di come convogliano le energie sin dalla testa ai piedi praticamente qua ok quindi mettete fuori tutte le pietre che avete fatevi delle meditazioni su questi colori rosso arancio giallo verde blu ok ma cosa abbiamo anche qui lo mettono come no questo è un viola si è un viola scuro magenta scuro e un oro quindi il sesto chakra è comunque associato proprio al violetto che al viola se vogliamo anche con qualche sfumatura indaco e il settimo chakra c'è chi lo vede sull'oro c'è chi lo vede sul bianco ecco non è che adesso no vedete la luce che vi ispira di più che vi viene a voi non è che se uno sbaglia il colore no però chiaramente ci sono dei colori su cui potete meditare meditare sui colori è un altro lavoro molto importante ok e magari qui visto che stiamo parlando di comando pb stardust non esce a caso questa carta no quindi comunque vuol dire che c'è magari più di un dolore sparso nel corpo di chi ascolta adesso insomma c'è chi ce n'ha tanti sembrerebbe qua perché però parte anche da una funzione di squilibrio a livello energetico e di chakra quindi chiediamo proprio una guarigione di questo tipo anche ai nostri fratelli galattici ai nostri angeli e a chi vi volete rivolgere voi chiaramente sempre dopo il medico curante è chiaro no questo è un lavoro in più che ci danno un regalo che ci danno i pleiadiani chiedete guarigione chiedete allineamento proprio dei chakra chiedete che questo dolore vi passi o che questi dolori al plurale vi passino ricordatevi che non esce a caso quello che esce quindi mi raccomando questo era il messaggio per te lettura 2 questo ti può servire tantissimo per fare delle meditazioni per ricevere proprio i codici da loro anche ok non è un caso quello che esce lo ricorda tutti eh quindi grazie anche a te lettura 2 vi invito tutti a iscrivervi al canale a lasciarmi anche un like e vi ricordo l'importanza di questo comando va bene poi magari fate sapere scrivete perché chiedono feedback i gradiani poi lo so io dove mandarli questo video comparirà comunque ricorda tutti anche grazie alla collaborazione con we love mass meditation e anche indirettamente però anche con il 2012 portal di cobra comunque che è collegato a we love mass meditation che sono tra le informazioni più sicure che ci sono in questo momento ma veramente da tanti anni nel web perché gira tanta di quella spazzatura che non dico quindi questo video in italiano sarà diciamo un po il portavoce in italiano va bene di questo perché sono stati già fatti questi video ma in altre lingue ok vi metto tutti i link sotto in descrizione andatele a vedere ricordo per parlare con me e per tutte le cose associate a me come questa tovaglietta per esempio che è la interdimensionale ma le altre tovagliette che ho creato i miei oracoli e tante altre cose per parlare con me trovate tutto in descrizione quindi scendete sotto a leggere va bene vi ringrazio tutti vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti grazie